E veniamo adesso a parlarvi un po' di uomini e donne con Valentina Dallari, è inutile che ve lo diciamo, ma nella prossima settimana vedremo che la tronista di Bologna ha eliminato dopo 4 mesi e ad un passo dalla fine Mariano Catanzaro, cosa che insomma le ha garantito non poche critiche, sia perché appunto si conoscevano da 4 mesi e si pensava che in ogni modo lo avrebbe portato fino alla fine ed invece è quanto a sorpresa. Anche mia ha deciso diversamente, ovviamente anche le stesse fans di Mariano Catanzaro hanno criticato Valentina Dallari che di tutto questo si è molto risentita e nella sua bacheca Facebook ha scritto questo messaggio molto significativo del suo attuale stato d'animo dicendo, Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io, vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate, vivi gli anni che ho vissuto io e cadi a dove sono caduta io e rialzati come ho fatto io, e forse, e nemmeno troppo è anche un messaggio indiretto a Mariano Catanzaro che di sicuro in questi giorni starà facendo l'impossibile e anche di più per sempre di essere riammesso nel trono.